casatiello napoletano a fin romun sta ricetta l'ho fatta proprio semplice e con tutto cuore perché soprattutto per un napoletano che vive all'estero chi si tradiziona e si devono portare sempre avanti oltre alla bellezza non ve ne ricorda l'odore ah a proposito c'è ci miso pure i cicli allora voglio partiamo subito a razza perché la ricetta è lunga allora guardate mami io vado a mettere in planetaria voglio l'impasto quello potete fare pure a mano ma raccomando io però parto in planetaria con 600 grammi di acqua e 20 grammi di lievito fresco azioniamo la macchina e facciamo sciogliere prima un lievito che hanno già sciolto il lievito mo ce ne va a mettere saremo a segnami un chilo di farina metà quindi 500 grammi 00 e 500 grammi di farina manitoba ok la farina però ce la dobbiamo andare a mettere a poco alla volta perché si deve incorporare piano piano nel frattempo che si incorpora la farina io ci vado a mettere 80 grammi di strutto oppure se ce l'avete subito insieme a guardate a me a due cucchiaini di pepe nero macinato fresco e guardate a me un bicchierino tipo una tazzina di caffè di olio evo e naturalmente continuate ad incorporare la farina infine 30 grammi di sale ha impasto completato voglio mo me lo sposto un attimino sul bancone e anche perché naturalmente vogliamo un attimino ricordarci la tradizione mo ce lo andiamo un attimino giusto pochi secondi a lavorare con le mani ma guardate qua com'è bello questo impasto ma voglio sentite qua ci sono varie scuole di pensieri io faccio come faceva la nonna ora ci mettiamo una panna coppa oppure una bella bacinella ok con un po' di farina sotto adesso lo facciamo riposare 6-7 ore voglio vi giuro 6-7 ore deve riposare è meglio farlo la sera per la mattina e poi dopo lo andiamo a lavorare aspettate un po' ci sono poche pazienza ma meno fino a rumore e passate tutte queste ore guardate qua quanto è bello ma non dobbiamo fare altro che stenderlo io me lo vado a stendere con la mano guardate qua com'è bello questo impasto io me lo vado a stendere adesso con la mano tanto bene voi lo potete fare anche con il mattarello e lo andiamo a farcire a fine rumore ecco qua una volta steso l'impasto tanto bella io mi sono tolto una bella strisciolina di impasto perché poi questa qua ci servirà dopo per fare le crocette sulle uova che andranno sopra ma voglio prima cosa da fare prendete o strutto o sogna bagnatevi le mani ve le dovete proprio sporcare e passatelo sopra tutto l'impasto tutta la superficie dell'impasto dopo un sogno bagnatevi io ci vado a mettere un altro poco di pipe lo so che c'era anche già dentro l'impasto ma io ce lo metto un altro poco ora bagnatevi questa è una cosa mia secondo me ho casatelle senza i ciccioli napoletani non è casatelle per me c'è una staff poi se ci mettete pure il provolone del monaco mamma mi locale allora insomma sceglietevi tutti i salumi che volete io ho messo salame, pancetta naturalmente ora ci vado a mettere belli ciccioli napoletani facetelo ben lucchini e chimichini ora metteteci i salumi proprio a sentimento proprio a sentimento universale dopo i salumi voglio io lo faccio così poi vedete voi se vi piace allora io prendo le uova sode e ce le vado a sbriciolare su tutto il casatilla dopo la sbriciolare di uova io ci vado a mettere le uova così vedete come i soldatini indiani vedete solo da un lato però ok dal lato che poi cominceremo a rotolare su tre morsi ecco fanno poche pecorine grattugiate non c'ho niente e anche qui quantità nel camion ora vaiù non dobbiamo fare altro che andare ad arrotolare in questo modo qua naturalmente io parto dove ci stanno le uova tanto bella ma tanto bella oggi non l'ho detto allora andiamo ad arrotolare piano 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 questo bel vermone fatto ciò vaiù dobbiamo prendere e dobbiamo fare la stessa identica forma lo ruotolo casatilla quindi in pratica che facciamo ora su una dura campana dobbiamo prendere la parte delle due estremità e le dobbiamo chiudere vedete tanto bella così formiamo una bella una bella ciambellona ora ho pigliato il ruotolo casatilla e ungetelo con lo strutto o con la sogna ma voi fatevi aiutare da due persone almeno prendete questo qui e lo andate a mettere nel ruoto del casatilla ah ecco qua voi dovete far aiutare ma voi guardatevi a me un, due, tre, quattro uova dobbiamo mettere allora io adesso allargo con il ditino prendo l'uovo questo qua però non è sodo è crudo perché tanto poi nel forno si cuocerà e andiamo a incastrare quattro uova come fosse una croce dai ma vi ricordate quelle striscioline che vi ho fatto mettere da parte allora cercate di fare due striscioline per ogni uovo e chiudiamole a croce tanto bello eh fatto pure le croci ma io dovete avere solo un poco 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 di pazienza ancora ora ci mettiamo un'altra volta un panno sopra e come faceva la nonna che aveva pazienza e la aveva pure lui un paio d'ore lo lasciamo riposare e poi lo andiamo a infornare e voilà e allora ora sono passato per queste due ore ora basta ora prendete l'uovo solo il tuorlo prendete le pannalline e fate come il giotto andiamo a dipingere questo casatilla il forno deve essere già preriscaldato a 200 gradi statico mettiamolo dentro e facemolo coce da tanto bello tempo di cottura totale 50 minuti oh beccano io voglio appena sfornato ora aspettiamo almeno un paio d'ore prima di andarlo a togliere dallo stampo lo tagliamo e lo assaggiamo e io voglio che ora mi ha già anticipato mamma mia mamma mia si vede? si vede? e ora ma ora che ora fa? assaggiamo questo pezzo di casatilla e ora assaggiamo vengono un po' con me mamma mia ma che cosa c'è ancora? mamma mia anzogna il ciclo napolitano il provolone del monaco ma io su questa dire che c'è fatti e alla fine del mondo buona Pasqua a tutti grazie grazie